Mentre si avvicina il 22esimo turno di Lega Pro con un altro scontro diretto ad attendere Yamaranto, da Viale Gramsci arriva l'ufficialità di un nuovo acquisto, l'attaccante Emanuele Testardi. Cinque presenze in Serie A con i blu cerchiati, nove nel campionato cadetto con il lanciano e un'esperienza nella massima serie ungherese con l'Onved, arricchiscono la carriera di un giocatore che per avere solo 24 anni sembra possedere tutti i requisiti per far bene. Ho scelto Arezzo perché, come dicevo prima, è una grande piazza, ha una grande storia e c'è tutto per far bene. Confronto ad altre società che magari non hanno la stessa storia di Arezzo, una piazza come Arezzo. Qua c'è una tifoseria, c'è uno stadio importante, c'è tutto per far bene. Nella trasferta sarda contro la Torres a 27 punti in classifica, proprio come Yamaranto, non ci sarà Ezio Capuano, squalificato per un turno. Al suo posto in panchina l'allenatore in seconda Raffaele Esposito. Io ritengo che un allenatore, se è bravo, deve preparare la partita durante la settimana, poi magari in panchina ci sarà Raffaele che è molto bravo, quindi sicuramente egli saprà leggere la partita e di apportare i dovuti correttivi. Per far posto ai nuovi arrivi il mercato Amaranto procede anche con le cessioni. Dopo Diana al Montemurlo, Vitiello al Poggi Bonzi, Morga al Forlì, ieri Francesco Millesi è passato all'Ischia Isola Verde. Intanto le trattative per ulteriori innesti proseguono, questa volta si pensa al centrocampo. Sicuramente dobbiamo prendere un centrocampista, questi erano i nostri obiettivi dichiarati e poi dobbiamo valutare i tempi di Erpen. Sono infatti le condizioni del fantasista argentino a preoccupare l'intero staff Amaranto dopo l'infortunio rimediato nella gara di domenica scorsa contro l'Albino Leffe. Sono pessimista vedendo come egli ha avuto il trauma, però dobbiamo aspettare gli esami e poi avremo la certezza della durata dell'infortunio di Erpen. Grazie.